non ti muovere lo sai cosa sono queste? te ne metto poco perchè questo costa eeeh l'ho finito ti do questa che l'ho quasi finita eh no questa qua costa un botto oddio deve arrivare la mia amica adesso io non so che cambio che non si sa truccare e devo truccarla io ma dimmi te che a 50 anni non si sa truccare dimmi te se è possibile è una cosa del genere adesso metto anche io un po' di gloss ecco qua ecco intanto che aspetto che arriva ma si intolla col mio top guarda che bello ciao cara ciao sei arrivata? ferma lì ferma non ti muovere lo sai cosa sono queste? mettiti subito queste togliti le scarpe ho appena lavato per terra ho appena fatto le punzie mettiti queste muoviti io makecio quelle scarpe le scarpe the scarpe le scarpe e lascelerose fuori dalla porta per Fiasù oddio guarda che sei eh ma dimmi te allora vabbè allora dai siedi di qua che cominciamo ti piace il mio top se li ho appena ordinati ho ordinato un sacco di completini carini e spero ti piaccia questo guarda guarda quanto è carino ho tutti i colori l'ho preso dorato argentato fucsia e bluet si è un turchese poi ho preso due top blu e viola bellissimi ma certo con i pantaloni abbinati ma scherzi dai sediti allora devo dare un po di primer intanto dai te ne metto poco perché questo costa dai ferma e te hai fatto la pulizia del viso guarda qua bene fondocinta ma fondocinta non penso che ne hai bisogno è meglio darlo un po perché ops e l'ho finito dai ti do solo la cipria va bene quale vuoi questo questa ti do questa che l'ho quasi finita eh no questa qua costa un botto questa te lo sta troppo è come l'oro costa come l'oro no non posso se ne vuoi ti do un pochettino poco poco ti abbondo un po più di questa perché sai questa questa costa poco e quindi ti abbondo ti abbondo dai vieni qua va bene te ne do un po' a te che di questa basta 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 è già troppa guarda la vedi sul che c'è sul pennello aspetta che me ne ha avanzato un pezzo non me la metto io dai eh vuoi il coso il liner tutto no l'illuminante vuoi vabbè te ne metto un pochino ecco un po' di illuminante quello chiaro no l'ho finito non ce l'ho direi che per la base sei a posto allora le sopracciglie io uso questo ma ce n'è poco quindi a te ti do il mascara sulla sopracciglie tanto è uguale vieni qua stai ferma perché sennò sbavo ecco hai visto dai che siamo già in ritardo porca adesso stai ferma ecco ti dai che anche col mascara va bene per te cosa c'è questa l'ho appena comprata è quella che va a definire le sopracciglie ma tanto col mascara te l'ho già fatto a te non serve no questa cosa come l'oro è la stessa cosa no niente te l'ho già fatto col mascara no te l'ho già fatto sei a posto dai ti do il liner la mattita sotto gli occhi e il liner su vieni qua allora si dopo la chiamo non ti preoccupare mamma mia che occhi hai e che hai ma cosa hai fatto ieri sera tu hai bisogno di un po di correttore con quelle occhiaie che ti ritrovi vieni qua che ti metto un po di correttore vieni ecco qua direi che adesso sei perfetta anche le ciglia finte vuoi pure guarda che non è facile metterle te lo dico se non sei abituato a portarle le ciglia finte no io ho quelle che chiede ci sono due mesi che me le metto io ma te ti metto quelle usa eccetera quelle che dopo toglia la sera si allora adesso mi devi stare ferma beh perché queste non sono facili da mettere se non sei abituata ma cioè possiamo anche fare a meno a metterle eh dai vieni qua chiudi gli occhi chiudi gli occhi no stai ferma così chiudi gli occhi ferma così no c'è una colla che dopo si toglie tranquilla ok vediamo dai ci fai un bell'occhio guarda che non pensi di cuccare più di me stasera eh con quelle ciglia che ti ritrovi perché sennò non va bene devo cuccare solo io eh che discorsi scusa eh vuoi fregare tutti tu gli uomini dai eh non ho capito dai chiudi l'occhio qua ecco ecco ma cosa stai facendo ecco l'hai staccata ma ma vedi lo vedi che non sei abituata a portarle sopra le ciglia finte ma te l'ho appena messa dammi qua adesso stai ferma e finchè non si asciuga la colla non ti tocchi ok chiudi l'occhio bene a posto è che non piace di chiamarmi di tutti i tuoi uomini eh perché di farti offrire da bere solo te perché non è giusto volevi anche tu un toppino così se vuoi facciamo la coppia di presto quello su eh va bene è arrivato il momento del rossetto e ti do questo dai un color ciclamino che sul tuo incannato ti sta bene vieni qua eh no è no transfert questo solo per professioniste eh direi che va bene ti metto un po' di gloss scusa dici dai tanto non sai te cosa significa il gloss quindi comunque te lo metto lo stesso dai tanto eh siano uguali ok questo qua sa di fragola così se trovi qualche bel maschietto che ti bacia sai da fragola ma vedi le amiche a cosa servono dai direi che può andare bene bene cara dai sbrigiamoci che stiamo meditando dai che dobbiamo andare a bailar si dai andiamo andiamo a a a a